Il mondo chiede con forza a tutti i governanti una volontà effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti e di misure immediate, per preservare e migliorare l'ambiente naturale e vincere quanto prima il fenomeno dell'esclusione sociale ed economica. Ha alzato la voce Papa Francesco nella sede delle Nazioni Unite a New York, parlando ai rappresentanti dei 193 Stati membri riuniti in Assemblea Generale. Quarto pontefice ad intervenire nell'emiciclo a 50 anni dallo storico primo discorso di Paolo VI, In questo, Francesco ha riconosciuto il grande ruolo dell'ONU, che festeggia i 70 anni dalla nascita, nel frenare ideologie nazionalistiche e l'uso incontrollato del potere tecnologico dell'umanità. Ma ha anche riconosciuto che è il tempo di trovare soluzioni urgenti ed efficaci contro l'esclusione economica e sociale, gravissimo attentato ai diritti umani, anche in vista dell'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La stessa cultura dello scarto porta poi ad abusare dei mezzi materiali disponibili e così alla distruzione dell'ambiente. Per questo Papa Francesco si attende che la Conferenza di Parigi sul cambiamento climatico raggiunga accordi fondamentali ed effettivi. In difesa degli esclusi, il pontefice ha chiesto che sia garantito ad ogni famiglia, cellula primaria di qualsiasi sviluppo sociale, il minimo assoluto fatto di casa, lavoro e terra, unito alla libertà religiosa e al diritto all'educazione. Papa Francesco ha poi ribadito l'importanza del ricorso al negoziato per evitare nuove guerre, di fermare la proliferazione delle armi, di combattere più efficacemente il narcotraffico e ha detto no ad interventi militari non coordinate tra i membri della comunità internazionale. Ed ha chiuso citando Paolo VI e il suo appello alla coscienza morale dell'uomo per una casa comune basata sul rispetto della sacralità di ciascuna vita umana. Grazie a tutti.